Trovare qualcuno che si sbilanci in queste ore non è affare semplice, i diretti interessati, i nomi che circolano scelgono il silenzio. O l'attesa 48 ore almeno prima di scoprire se le segreterie di partito da destra a sinistra avranno trovato l'intesa sul super sindaco, cioè il nuovo presidente della provincia dopo Barbara De Gani che sarà eletto dai consiglieri comunali e dai primi cittadini dei 104 comuni padovani il prossimo 12 ottobre. In realtà quelle che ci sono sui giornali sono chiacchiere, si sta lavorando invece per un unitario, saranno gli amministratori a decidere perché l'ente provincia è un ente di gestione, ormai una sorta di consorzio di comuni. Poco incline alla nuova carica il neo sindaco di Padova Massimo Bitonci sarebbe alla caccia dell'intesa con il gran capo di Forza Italia Marco Marin, magari convergendo sull'ex assessore al lavoro e attuale sindaco del comune più popoloso albignasego Massimiliano Barison. Io direi che si deve lavorare per un unitario con tutte le forze politiche che sono in campo. Ma sarebbero della partita oltre alla Venturini del nuovo centrodestra, Francesco Lunghi sindaco di Monsilice e Fabio Bui democratico a capo della giunta di Loreggia, convinto del ruolo solo se candidato unico ed espressione civica di tutti i sindaci, anche per evitare gelosie nell'amministrazione del territorio. Deve essere un ente snello, dove gli amministratori cercano di dare dei servizi in tutta la provincia di Padova in maniera equa e soprattutto deve essere un ente che riesce ad intercettare i contributi europei.